Sta prendendo avvio in tutta Italia la procedura che consentirà a più di 14.000 docenti di acquisire il titolo di specializzazione per l'attività di sostegno agli alunni disabili. Si tratta di una occasione importante perché le cattedre di sostegno vacanti sono decine di migliaia e in alcune province il titolo di specializzazione garantisce un lavoro sicuro, anche se va detto che per intraprendere questo percorso è necessaria una motivazione molto solida. Per il momento il ministero ha autorizzato le università che hanno fatto richiesta di attivare i corsi. Per accedere sarà necessario superare il test di ammissione che si svolgerà il 15 aprile per i docenti di infanzia e primaria e il 16 per i docenti di secondaria. I costi non sono propriamente popolari. Già solo per il test di ammissione bisognerà sborsare una cifra che varia da 40 euro a Perugia fino a 180 all'Università Suor Orsola ben in casa di Napoli. Ma poi c'è la tassa di frequenza che si attesta mediamente sui 3.000 euro con punte di 3.700 nelle tre università siciliane di Palermo, Catania e Messina. Ma il dato più bizzarro di tutti è che il numero dei posti attivati nelle diverse università non sembra rispondere ad una logica precisa. Per esempio a Torino sono disponibili 200 posti, nella piccola macerata ce ne sono 780, alla ben in casa di Napoli si arriva persino a 1.000. Di sicuro il numero dei posti non ha molto a che vedere con il numero di cattedre scoperte nel territorio di riferimento di ciascuna università e questo avrà ripercussioni importanti. Chi si specializzerà in una regione potrebbe trovarsi nella situazione di doversi spostare altrove per ottenere un posto. Insomma non è detto che l'operazione possa essere utile a ridurre il precariato e soprattutto a garantire la continuità didattica. Il tema come potete capire interessa migliaia e migliaia di docenti ma anche di famiglie quindi noi continueremo ad occuparcene. Commentate, inviateci le vostre esperienze, scriveteci, continuate a seguirci sia sul nostro canale youtube ma anche sul sito della nostra testata www.tecnicadellascuola.it www.tecnicadellascuola.it